Casoria si appresta a celebrare la santificazione di padre Ludovico il prossimo 23 novembre nella solenne liturgia in Vaticano presieduta da Papa Francesco. Il comune alle porte di Napoli ha organizzato una serie di eventi per fare memoria di questo suo figlio, frate Francescano che si distinse in opere di carità e preghiera, soprattutto nella liberazione dei bambini di colore schiavi in Egitto, suo l'istituto La Palma nel cuore della sanità e ascoltiamo la giovane Ida Yadevaia che ha ricevuto la grazia per la quale Ludovico sarà proclamato santo. Io sono nata il primo giugno del 1994 con una grave malformazione al ginocchio destro, una malformazione congenita, dove praticamente il ginocchio essendo recurvato faceva lo stesso movimento del braccio, quindi era un movimento anomalo. Siccome il mio papà ha una zia suora che è figlia spirituale di padre Ludovico, usciti dall'ospedale ci siamo diretti a Mater Dei nel convento dove mia zia si trova e abbiamo detto una semplice preghiera a padre Ludovico, quindi l'abbiamo conosciuto in quell'occasione. Quando hanno scoperto il ginocchio per vedere, per visionare la situazione hanno constatato che il ginocchio era molto arrossato con delle impronti sopra e sotto i loro occhi, contemporaneamente il ginocchio si è sgonfiato ed è salita sopra la padella, il ginocchio. La gioia della Chiesa Universale, espressa da Fra Adriano Pannozzo, superiore provinciale dei frati minori e da Suore Elvira Piscopo delle Suore Bigie. Grazie al Signore Papa Francesco, eleva agli onori dell'altare padre Ludovico, per noi frati francescani di Napoli è un evento importantissimo per chi ci dà l'opportunità di riprendere in mano la nostra vita di frati minori, la nostra esperienza francescana per rivigorire la nostra presenza sulle città della provincia di Napoli e di Caserta. Era da una parte un po' inaspettata perché si sa che è stata all'improvviso la proclamazione, l'annuncio, però ci sentivamo già preparate perché sapevamo che da un momento all'altro doveva essere riconosciuta questa santità, la santità del nostro amato fondatore. Ai nostri microfoni anche il Sindaco del Comune di Casoria, Vincenzo Canfora. Oggi veramente incominciamo questo percorso per arrivare alla santificazione di padre Ludovico, una santificazione aspettata per tanti anni. Finalmente è arrivato il giorno fatidico, il giorno della gioia.